Grazie a tutti. Per quanto riguarda la tasse che già precedentemente hanno ulteriormente aumentato, tagli alla riflessione scolastica, tagli ai trasporti, tutto questo non è possibile in una città che già dalla manovra del governo 2011-2014 ha portato ulteriori tasse e quindi possibilità di un azzeramento del potere d'acquisto dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. Sposito, la cosa che poi voi avete criticato molto aspramente è la mancanza di concertazione, cioè nonostante voi avevate richiesto un incontro con l'amministrazione comunale a tutt'oggi non è ancora avvenuto. Infatti è verissimo questa cosa in quanto in due occasioni, in due diversi richiesti di incontro è partito sia dalla nostra zona franca sia dai nostri responsabili provinciali e a tutt'oggi non c'è stata risposta. Quindi per noi è importante avere una comunicazione con questa nuova amministrazione perché penso che possiamo dare un grosso contributo in materia di sviluppo che questa città potrebbe e deve avere, però proprio lì Angelo non è una rinascita questa città. Se l'amministrazione comunale dovesse convocare i sindacati qual è la priorità in assoluto, cioè qual è la cosa che chiedete per prima? Rivedere innanzitutto quello che è il sistema di un patto sociale per le classi più deboli, i pensionati, i giovani che hanno la necessità di vedere un nuovo futuro e quindi una nuova occupazione che debba essere rilanciata insieme anche, io dico e lo voglio sottolineare, alle imprese locali.